Cos'è un polipo canceroso? I polipi, sia maligni che benigni, sono gruppi cellulari che crescono sulle mucose del corpo. Le aree in cui si verificano più spesso includono i seni nasali e il naso e lo stomaco. Anche la vescica e l'utero sono luoghi comuni, tuttavia sono più comuni nei colon. È possibile trovare polipi in altre aree della mucosa, come l'intestino tenua o la cervice, ma è meno probabile. Un polipo maligno o canceroso inizia spesso come benigno e cambia nel tempo. I polipi del colon si verificano frequentemente con pochi o nessun sintomo fino a quando la malattia non ha progredito seriamente. Per questo motivo, gli esami regolari che includono le colonoscopie sono importanti per chiunque abbia più di 50 anni. Oltre agli anziani, ai fumatori, alle persone che abitualmente consumano alcolici e coloro che mangiano molte calorie e piccole fibre hanno un numero maggiore di polipi. Gli individui in sovrappeso sono a rischio maggiore così come quelli di discendenza ebraica afroamericana o ashkenazita. Chiunque abbia una storia familiare di cancro, in particolare il cancro del colon, che appartiene anche a uno dei gruppi sopra menzionati, è a rischio aumentato e dovrebbe essere diligente nei confronti di screening regolari di polipi cancerogeni. Ci sono un certo numero di tipi di polipi. La prima distinzione riguarda il modo in cui è collegato il polipo. Alcuni crescono dalla superficie della mucosa attraverso uno stelo sottile, questi sono polipi peduncolati. Altri appaiono direttamente sulla superficie senza il gambo di collegamento, si tratta di polipi sessili. Una grande crescita sessile ha molte più probabilità di diventare un polipo canceroso rispetto a uno piccolo e penduncolato. Altre distinzioni tra i tipi di polipi del colon includono adenomatoso, infiammatorio e iperplastico. I polipi adenomatosi sono i più comuni e costituiscono oltre il 60% di tutti i polipi. La maggior parte in realtà non diventa cancerosa, tuttavia, poiché quasi due terzi di tutti i polipi rientrano in questa categoria, statisticamente, la maggior parte di quelle che sono in effetti cancerosi sono adenomatosi. I polipi infiammatori si verificano più spesso a causa della colite ulcerosa o nei pazienti con malattia di Crohn. Queste due condizioni aumentano il rischio di cancro del colon, tuttavia, va notato che i polipi infiammatori sono i meno cancerogeni. Tuttavia, chiunque abbia sperimentato periodi di sindrome dell'intestino irritabile, colite o altri disturbi intestinali dovrebbe sottoporsi a controlli regolari. La stragrande maggioranza degli altri rientra nella categoria dei polipi per plastici. È più probabile che si trovino nel colon discendente e nel retto. Sono quasi sempre benigni e rimangono così. Mentre un polipo canceroso frequentemente non causa sintomi, quegli ingruppi ad alto rischio dovrebbero avere familiarità con i sintomi che possono verificarsi. Un sintomo è costituito da feci sanguinolente, che possono contenere strisce rosse, insanguinate o possono essere nere nell'aspetto e nella catramosi. Sanguinamento rettale, un altro sintomo, può manifestarsi come una macchia o una striscia di sangue rosso sulla carta igienica, tuttavia, questo è anche un sintomo molto comune di emorroidi o lacrime anali. Sgabelli che sono regolarmente sottili e simili a nastri possono indicare la presenza di tumore del colon. Sebbene il dolore non sia fortemente associato a un polipo canceroso, una massa maligna che ostruisce l'intestino può provocare nausea e talvolta vomito crampi addominali.